Allora, è finita questa semifinale gold, ha vinto la Tunisia ma anche l'avvento tutta nautico insomma non ha demeritato Una grande bella partita, adesso siamo alla dichiarazione del voto per la disciplina per la squadra avversaria 8 e mezzo 8 e mezzo, bene, grazie Io un po' in accordo anche con gli altri che volevano dare un po' di meno però do un 8 perché sono stati veramente bravi rispetto a altre squadre Bene, grazie Grazie